Sempre a Torino arriva dalla giunta comunale, proprio in merito a provvedimenti per venire incontro all'utenza e ai lavoratori, la notizia che verranno sospese tutte le utenze non domestiche del pagamento della prima e della seconda rata della Tari, la tassa sulla raccolta rifiuti le cui scadenze erano state fissate per il 16 e per il 15 di maggio.